Onorevoli membri del Senato della Repubblica, egregi ed illustri presenti, con gratitudine e impegno mi rivolgo a voi per condividere le iniziative intraprese dalla nostra scuola nell'arduo compito di combattere la dispersione scolastica e promuovere la motivazione degli studenti. In un'epoca in cui la disaffezione verso l'istruzione costituisce una sfida crescente, abbiamo abbracciato il ruolo cruciale di creare un ambiente educativo in cui ogni studente si senta non solo accolto, ma anche ispirato e valorizzato. Riconosciamo che il nucleo della nostra missione è far brillare la luce della conoscenza in ogni singolo individuo, incoraggiandolo a esprimere la propria creatività e a realizzare il proprio potenziale. Abbiamo perciò compreso che la chiave per affrontare la dispersione scolastica risiede nella capacità di stimolare la passione per l'apprendimento e offrire agli studenti opportunità concrete di espressione e realizzazione personale. Da qui la proficua collaborazione con l'Associazione Vox Generation e altre istituzioni del territorio. Primo fra tutti il Comune di Legnago, che ha portato al progetto del film Vola Alto Tuvali, questo lungometraggio dato dall'idea originale della canzone del professor Alessandro Fusaro, che ha visto come protagonisti alunni e insegnanti del nostro istituto per raccontare una storia di resilienza e determinazione, centrata sulla conquista della maturità, attraverso il superamento di sfide e fallimenti. Attraverso un mix avvincente di rap, rock, musica e immagini, il film si è trasformato in un potente strumento educativo, fungendo da motore di orientamento e prevenzione dell'abbandono scolastico. Il messaggio positivo, motivazionale del film è stato veicolato attraverso la sua canzone guida, le cui parole rispecchiano il tema centrale del progetto. Prova e riprova. Hai la vita davanti, cadi per poi rialzarti, tu vali, sogna e apri le ali. Dai tempo al tempo e credici in fondo, guardati attorno. Verrà un giorno e volerai alto. Queste parole interpretate dagli studenti attori enfatizzano l'importanza di perseguire i propri sogni con passione e determinazione. Volalto Tuvali rappresenta un esempio lampante di come la creatività e la collaborazione possano essere utilizzate per promuovere messaggi positivi e motivare le nuove generazioni a perseguire i propri obiettivi con slancio e fiducia. Questa iniziativa non solo ha contribuito a rimotivare gli studenti, ma ha anche avuto un impatto tangibile sulla loro permanenza a scuola, con un aumento del coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche. Tuttavia, il nostro lavoro è ancora lungi dall'essere completo. Sappiamo che la lotta contro la dispersione scolastica è una sfida costante che richiede un impegno continuo e una ricerca incessante di nuove strategie efficaci, ma siamo determinati a perseverare, consapevoli del potenziale trasformativo dell'istruzione e della responsabilità che abbiamo nei confronti delle future generazioni. Siamo grati per l'opportunità di condividere questa esperienza con voi e continueremo con impegno a guidare i nostri studenti verso un futuro di speranza per una vita fruttuosa nella dimensione di cittadini e di professionisti. Vi ringrazio per la vostra attenzione.